Il San Nicolò si conferma affetto da pareggita acuta. I biancazzurri impattano anche contro la Vispesaro, raccogliendo il loro undicesimo segno X dall'inizio della stagione. Un record per la squadra di Mister Epifani, che al cospetto del fanalino di coda del campionato non va oltre l'1-1, un risultato sul quale pesano però alcune decisioni scellerate prese dal signor Tursi di Valdarno, in evidente giornata no. La cronaca del match. Avvio poco spettacolare. Fin dalle prime battute di gara, la Vispesaro dimostra un atteggiamento tutt'altro che remissivo. Il San Nicolò fatica a creare gioco e a trovare sbocchi in avanti. I biancazzurri si fanno vedere due volte, sempre da lontano e sempre con chiacchiarelli. Al sesto con un rasoterra che si spegne fuori di poco. All'ottavo con una sventola che termina la sua corsa sul fondo. I marchigiani comunque non si spaventano e al ventiduesimo rispondono con un'azione sull'asse Bugaro-Rossoni. La conclusione al volo di quest'ultimo però è imprecisa. Il San Nicolò va avanti a fiammate ed è proprio su una di queste fiammate che i biancazzurri di Epifani costruiscono l'azione più pericolosa del primo tempo. Trentesimo. Moretti sulla destra semina tutti. Cross teso al centro per la corrente Bartolini che di testa colpisce in pieno la traversa. L'ultimo cenno di cronaca poi arriva a pochi istanti prima del quarantacinquesimo con questo tiro di Valim che non impensierisce Teodorani. 0-0 all'intervallo. Nella ripresa i biancazzurri tornano in campo più convinti e spingono sull'acceleratore con maggior decisione. Al secondo Moretti dal fondo pesca chiacchiarelli che al volo tentare Eurogoal ma la palla va fuori di poco. Sei minuti dopo la palla buona capita sui piedi dello stesso Moretti ma il suo tiro è troppo centrale. Teodorani controlla in surplus. Ma il vantaggio di casa è il rimandato di appena tre minuti. All'undicesimo infatti i biancazzurri passano. Mozzoni dalla sinistra illumina. Iaboni prolunga per Moretti che da due passi spara sotto il sette dell'incolpevole Teodorani. 1-0. Il San Nicolò sembra in controllo del match e invece al diciottesimo gli ospiti raddrizzano il punteggio. Contropiede solitario di De Iulis che entra in area, si infila in mezzo a tre e cade dopo un contatto con Gabrielli. L'arbitro fischia il penalty e ammonisce il difensore di casa. Episodio da rivedere alla Moviola. Dal dischetto comunque Bugaro non fallisce, spiazza Digifico e firma l'1-1. Al ventunesimo ancora un'azione contestatissima, questa volta in area marchigiana. Brighi, Gianmonito, stende così Moretti. Il rigore, come confermi il rallenti, sembra netto. Ma la giacchetta nera incredibilmente punisce la simulazione dell'attaccante di casa. La partita a questo punto si incattivisce e l'arbitro continua nel suo show personale dispensando cartellini un po' a casaccio. A pagare per tutti è Petronio che al ventinovesimo finisce anzitempo sotto la doccia per questo fallo vegnale ai danni di Bugaro. Nel finale comunque non accade più nulla. Finisce 1-1 tra i rimpianti del San Nicolò. Mister, è un risultato importante per la sua vispesero questo che ha raccolto sul campo del San Nicolò? Sì, secondo me è un risultato importantissimo perché ci permette anche di cominciare una serie che speriamo sia positiva. Ho visto una vispesero abbastanza aggressiva, abbastanza in palla. Forse ho visto il San Nicolò a Matteli che mi è sembrato che abbia giocato un pochino di più. Oggi noi siamo stati bravi ad andare ad attaccarli e siamo riusciti a fare una discreta partita. Gli episodi contro il San Nicolò come li ha visti dalla sua panchina? Io cosa vi devo dire? Io mi fido di quello che dice il mio giocatore. Il mio giocatore mi ha detto che ha toccato per terra, io mi fido di quello. È chiaro che io dirò così, quello di San Nicolò dirà il contrario. Purtroppo o per fortuna c'è l'arbitro che deve decidere. Comunque anche l'arbitro, anche in molte situazioni, specie nel finale del primo tempo o sull'undici nostro, è stato delle volte, vista dalla mia parte, poteva essere criticato in qualche modo. Mister, sei più deluso dalla prestazione non brillantissima della tua squadra o sei più arrabbiato per i tanti episodi arbitrali che hanno penalizzato la tua squadra nel corso dell'incontro? Sono arrabbiato perché sapevo che questa partita era difficile, è una squadra che ti fa giocare male. Poi è una squadra che quando lotta per salvarsi, sono squadre pericolosissime da incontrare. Però credo che la squadra anche oggi ha creato le sue palle gol. E poi se devo parlare dell'arbitro oggi potrei dire cose che non posso dire. L'avete visto tutti, penso che l'arbitraggio è stato un pochettino a sfavore nostro perché oggi per l'ennesimo volte credo che c'è un rigore non clamoroso ma di più. Ma l'andamento della partita, ogni piccolo fallo era sempre il contrario. C'erano delle munizioni per loro, non le ha mai fatte. Quindi credo che sono dispiaciuto perché lavoriamo dalla mattina alla sera e credo che questa squadra si sta dando veramente grandi risposte. Sta facendo un grande campionato e forse delle volte non è soltanto colpa nostra quando magari portiamo a casa un pareggio, quando oggi la squadra doveva vincere perché meritava di vincere. Grazie a tutti.